Prima le urla, poi è spuntata fuori anche un'arma bianca e così una lite furiosa è terminata coltellate. È successo ieri sera in via Sparta con la Vagnini a San Giovanni Valdarno, poco prima delle 22, protagonisti del violento episodio che si è consumato all'interno delle mura domestiche una coppia di origini straniere, lui di 40 anni, lei 35enne. Motivi di celosia sembrerebbero aver scatenato il litigio. L'uomo ha riportato una ferita ad armalataio nella parte superiore dell'addome, è stato stabilizzato e portato all'ospedale delle scotte di Siena in codice rosso, dove è stato operato e ancora in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna invece ha riportato una ferita alla mano e all'avambraccio, è stata portata all'ospedale della Gruccia in codice giallo. Adesso i carabinieri, intervenuti sul posto, stanno cercando di ricostruire l'intera vicenda e soprattutto capire l'esatta dinamica dei fatti. Sembrerebbero stati frequenti dissidi tra la coppia, ieri sera sfociati però in una vera e propria violenza fisica. Al momento i militari stanno procedendo per maltrattamenti contro conviventi e lesioni aggravate, entrambe ipotesi procedibili d'ufficio.